Sono tre gli arrestati gelesi per evasione. Il primo, Giovanni Rinzivillo, è stato tratto in arresto per aggravamento della misura cautelare, un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Gela che ha applicato la custodia in carcere, revocando la misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione a Roma perché è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. Il secondo arrestato, Calogero Orazio Peritore, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari su ordine di esecuzione e messo dalla procura perché doveva scontare sei mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile di evasione. Il terzo arrestato, Salvatore Morello, pluripregiudicato, tratto in arresto in flagranza di reato di evasione perché lo stesso è stato sorpreso dalla polizia fuori dalla sua abitazione, uscito dopo una furibonda lida con la moglie dopo che stava scontando gli arresti domiciliari perché è coinvolto nell'operazione di polizia e affari di famiglia.